Gordon Ramsay diventa vegano. Lo ha annunciato in un tweet lo stesso chef pluristellato britannico senza pero spiegarne le ragioni, voglio dare un'opportunità alla dieta vegana. Sì, ragazzi, avete capito bene. Il post è accompagnato da una foto di una pizza appena sfornata nel ristorante Gordon Ramsay Street Pizza che ha aperto da poco i battenti a Londra. Stando all'immagine al menù del ristorante, osserva l'Independent, dovrebbe trattarsi della pizza con melanzane, pinoli tostati e pesto di aglio selvatico e pomodoro. Vegan al 100%, dunque. Per il cuoco star dell'attivo britannica, una giravolta di 180 gradi, destinata a lasciare di stucco i suoi seguaci, memori delle dichiarazioni provocatorie rilasciate in passato dallo chef contro i vegani e il veganesimo, chiunque avrebbe messo la mano sul fuoco sull'eterno amore del cuoco per la carne. Nel 2007 Ramsay aveva preso in giro l'ex star di Girl Salud, Keryl, ospite con la sua band allo show televisivo dello chef TF Award, non hai ricevuto il messaggio? I vegetariani non sono i benvenuti qui, le aveva detto Gordon Ramsay appena venuto a conoscenza del regime dietetico della cantante. Lo stesso anno, la star di Als Kitchen aveva dichiarato che se i suoi figli fossero diventati vegetariani per lui sarebbe stato un incubo e lì avrebbe fulminate all'istante. Eliminare animali e derivati dalla propria tavola era evidente e considerato un peccato talmente imperdonabile che Ramsay non avrebbe chiuso un occhio nemmeno per Sir Paul McCartney, che si era offerto di illustrargli i vantaggi di una dieta senza carne, sarei felicissimo se tutti fossero vegetariani. Il mondo sarebbe migliore, aveva detto l'ex Beatles. Ma appena due anni fa, lo chef 51enne aveva ribadito via social di essere allergico ai vegani. L'ultima provocazione risale ad appena un mese e mezzo fa quando, commentando la foto di una lasagna vegana pubblicata da una comunità social vegetariana, aveva dichiarato, sono un membro della PETA, ovvero, persone che mangiano gustosi animali. Ma questo accadeva prima della conversione. «Going to GVT» cancelletto vegan tingatri. Iguais you are tarigat. gxpeak.twitter.com barra itsbot wmlh8